5 bidoni della Lazio Rizadur Misi, uno dei campioni voluti da Iglitare 7 milioni per il danese che è ancora l'incubo dei laziali lento e impacciato ricordato per l'intervento inutile su Musacchio che darà i tre punti al Milan Valon Berisha, Tare si innamora di lui dopo la partita di Europa League contro il Salisburgo dove trova appunto la rete risultato, 11 presenze in due anni, mostruoso Ivan Della Pegna, 30 miliardi di lire per lui arrivava dal Barcellona venne chiamato il Buddha per la lentezza che lo caratterizzava 14 presenze per poi essere ceduto Johnny, altro spagnolo che deluderà le aspettative preso dal Malaga nel 2019 giocherà con continuità per 24 partite poi il nulla cosmico, ricordato per aver ricevuto una denuncia per essersi portato dietro della testura tecnica dalla villa in cui risiedeva a Roma Davide Di Gennaro preso dal Cagliari veniva paragonato ad Andrea Pirlo infatti 5 presenze in un anno mandato in prestito alla Tallitana in Serie B a fine anno grazie a tutti